Rovigo ospiterà una grandissima mostra, quella del fotografo Robert Duanot. Cosa ne pensate? Qual è l'orgoglio della nostra città per questo evento? Siamo ovviamente molto soddisfatti che sia possibile ancora una volta organizzare al Palazzo Roverelle una mostra di valenza nazionale, se non addirittura mondiale, ospitando uno dei padri nobili della fotografia umanista. È un cambiamento interessante di approccio ai linguaggi che viene normalmente proposto nell'ambito dello spazio espositivo di Palazzo Roverelle. È una bella novità per la nostra città che arricchisce ulteriormente la sua offerta di natura culturale e quindi come amministrazione comunale partner di questa iniziativa non possiamo che essere orgogliosi e invitare tutti a visitare questa straordinaria mostra. Grazie. Grazie mille, Sindaco. Grazie. Grazie.